P.R. è aggredito a Sanque e abbandonato in piazza Semartiri a Vittoria, il tutto perde i biglietti di ingresso in discoteca. 21enne dopo una delusione d'amore si recca davanti i vigili urbani di Scicli e si taglia le vene, ora sta bene ma è stato ricoverato in psichiatria. 22enne dopo una delusione d'amore si recca. 22enne dopo una delusione d'amore si recca. 23enne dopo una delusione d'amore vittoriese è stato aggredito a Sanque con la rottura del setto nasale, derubato dal portafogli e abbandonato agonizzante in piazza Semartiri a Vittoria, luogo di ritrovio dei giovani, la sera di giovedì. Il motivo? La prevendita di alcuni biglietti per la serata di sabato sera in discoteca in un locale a Marina di Ragusa. Forse è un diverbio acceso perché agli aggressori il costo dei biglietti è sembrato alto, forse rancori passati. Tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo i fatti avvalendosi della collaborazione della vittima che è stata trasportata all'ospedale Guzzardi di Vittoria e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al setto nasale. Secondo gli inquirenti potrebbe anche trattarsi di un'aggressione scaturita dopo una rapina. Il giovane è stato derubato dei biglietti in prevendita, degli effetti personali e del portafogli che conteneva solo pochi spiccioli. La polizia sta continuando le indagini per identificare gli aggressori che secondo quanto ha preso pare siano tre. Intanto la vittima sta molto meglio mentre gli aggressori avrebbero le ore contate. Ed ancora cronaca ha tentato il suicidio tagliandosi le vene per amore. Un 21enne è stato trasportato in ospedale dove per fortuna non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Erano le 21 quando un giovane di 21 anni in forti crisi depressive si taglia le vene per amore. È successo davanti alla sede dei vigili urbani in Corso Mazzini a Scicli. Pare, secondo quanto riferito dai carabinieri, che il giovane si era lasciato con la sua fidanzata ma non è ancora chiaro perché abbia tentato il suicidio proprio davanti alla sede della polizia locale. Il 21enne ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno subito segnalato il tentato gesto estremo del giovane, soccorso subito dopo da un'ambulanza partita dal Busac di Scicli. Per fortuna il 21enne non è in pericolo di vita. I medici hanno prestato le prime cure per tamponare la vasta ferita da taglio che si è procurato ma poi, viste le condizioni precarie mentali del 21enne, che potrebbe reiterare il tentativo di suicidio, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. L'episodio di ieri sera ha testato a scalpore in tutta la città, sia per la giovane età che per i futili motivi. E su quanto appena sentito, ovvero di allarmi sociali di adolescenti che in più occasioni tentano il suicidio per banalità, abbiamo anche chiesto il commento ad un esperto. Sentiamolo. Il disagio giovanile di oggi sostanzialmente non è un disagio esistenziale, perché i ragazzi hanno un po' tutto, non gli manca nulla, vivono in un certo qual senso in una sorta di benessere. Il problema è di un disagio culturale, a mio avviso, perché è entrato nel cuore delle persone quello che Gallimberti chiama un ospite inquietante, il nichilismo, per cui non ci sono più punti di riferimento. Per aiutarli oggi è necessario un problema di comunicazione, una comunicazione educativa che può essere risposta e prevenzione. Oggi è una società dove non c'è comunicazione, c'è semplicemente la dimensione dell'apparire, non dell'esserci, ma dell'apparire, dell'entrare nella società soprattutto con una dimensione di comunicazione che è soltanto esteriore. I carabinieri di Scoglitti hanno rinvenuto dietro un muretto di via Fratelli di Dio a Scoglitti ed avvolte in una coperta di lana le armi e gli oggetti balistici asportati la scorsa settimana dall'abitazione di un residente di Scoglitti. Nello specifico i ladri erano entrati in azione la sera di mercoledì 21, quanto dopo essersi introdotti all'interno di un'abitazione, avevano asportato dalla cassaforte aperta e senza segni di effrazione diversi oggetti balistici, tra cui un fucile da caccia, una carabina, una pistola calibro 22 ed una pistola d'aria compressa. Da quel momento era iniziata un'intensa attività di indagine, tesa a recuperare le armi tramite anche l'effettuazione di decine di perquisizioni con l'ausilio delle unità del nucleo cinofili di Catania. Ed ancora cronaca, sequestrati dalla Guardia di Finanza, 855 cd musicali e capi di abbigliamento contraffatti, scoperto al mercatino di Ragusa un vero e proprio stand del falso. I dettagli nel servizio. Un vero e proprio stand del falso è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza durante il mercato del mercoledì a Ragusa. I clienti, con pochi euro, avrebbero potuto rifarsi il guardarrobe e aggiornare la propria videoteca. Infatti erano presenti i capi di abbigliamento e accessori, dagli occhiali da sole alle scarpe alle felpe, t-shirt e full art, senza dimenticare orologi e articoli di pelletteria. Oltre ai dvd dei film, appena usciti nelle salle cinematografiche, cd musicali dei cantanti in voga del momento. Approfittando del caos e della moltitudine dei clienti che affollano l'area mercantile della cittadina eblea, era stato allestito un vero e proprio negozio ambulante, dove offrivano 855 cd musicali e capi contraffatti a prezzi ribassati. Cd, dvd e abbigliamento delle più note, griffi di moda da Scenella a Gucci, da D&G a Rainbow of Eogan. Il soggetto responsabile di origine senegalese è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Ragusa per il reato di contraffazione di marche e segni distintivi. Le indagini proseguiranno per risalire ai responsabili della filiera rete produttiva e distributiva dei prodotti illeciti. Invesse un ragazzino di 14 anni sulla Marina Marza in bicicletta e scappa. La polizia municipale dopo poche ore riesce a risalire al proprietario dell'auto. È un pozzallese di 79 anni che la mattina successiva al sinistro si presenta negli uffici della polizia locale. Per lui scatta la denuncia per essersi allontanato dal luogo dell'incidente, non prestando quindi soccorso ed il ritiro della patente. Il minore soccorso era stato trasferito all'ospedale maggiore di Modica, dove è stato ricoverato per trauma cranico e lesione a un braccio non è in pericolo di vita. A 19 anni alla guida della sua auto sotto l'effetto di stupefacenti ha provocato un grave incidente coinvolgente tre auto. Il giovane è stato denunciato dalla polizia di Comiso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Regina Margherita. 21 anni, è pronto a mettersi alla guida della sua auto, una Nissan Micra, con a bordo due suoi amici dopo aver assunto droga. Sabato il giovane mentre percorre la via Checov con direzione di marcia via Borsellino, Livattino, via Tolomeo, procedendo ad una velocità sostenuta, giunge al civico 49 all'altezza di un incrocio quando entra in collisione con una Toyota Yaris condotta da un vittoriese di 47 anni. Dopo l'urto, la Toyota subisce una violenta spinta davanti e roteando su se stessa urta una Ford parcheggiata. Intanto la Nissan Micra dopo l'urto continua, la sua folla è corsa e si blocca dopo oltre 50 metri più avanti dal punto di urto. Insomma, uno scontro a catena che coinvolge anche un'auto in sosta, un sinistro che provoca lesione ai conducenti dei veicoli, trasportato al pronto soccorso della Regina Margherita, dove la polizia decide di far sottoporre a test alcolemici e tossicologici i conducenti delle due auto coinvolte nel sinistro. Positivo il test per il conducente della Nissan Micra. Viene infatti riscontrata un'alta presenza di cannabinoidi e di etanolo, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente. Il giovane viene anche denunciato per guida di veicolo in stato di ebrezza alcolica, in stato di alterazione psicofisica, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. È stato necessario l'intervento del caro Attrezzi per liberare la sede stradale, viste le condizioni delle auto. Nel corso di un'altra operazione, la polizia di Comiso denuncia anche un comitano di 56 anni però messo a custodia. Gli agenti si recono nell'abitazione del pregiudicato per procedere alla connotifica di due provvedimenti di confisca nei confronti di altrettante autovetture a lui intestate. All'atto della notifica del provvedimento che riguarda la confisca di una Peugeot 106, gli agenti appurano che l'auto non è più nella disponibilità del pregiudicato. L'uomo deve rispondere di omesso a custodia. La CNA provinciale si scaglia contro l'amministrazione di Modica. Rea a loro dire di non avere rispettato gli accordi in merito alle piccole e medie imprese di Contrada. Michelica adesso scatta l'ultimatum. Se entro il 10 dicembre non si provvederà a quanto deciso, la questione approderà in prefettura. Sentite. CNA ed amministrazione di Modica ancora una volta ai ferri corti e ancora una volta per la questione della zona artigianale di Contrada Michelica. L'amministrazione, secondo la CNA, si sarebbe ancora dimostrata lontana rispetto alle istanze delle piccole e medie imprese modicane. Amministrazione, ma anche il Consiglio Comunale, non avrebbero infatti raggiunto gli obiettivi individuati nel corso di un precedente incontro. La querelle tra amministrazione e CNA si trascina da settembre, quando le imprese insediate avevano dichiarato lo stato di agitazione e avevano minacciato la chiusura dei propri opifici in segno di protesta per una situazione economica e gestionale sempre più insopportabile. In quella occasione, il Sindaco si era impegnato a far approvare dal Consiglio Comunale, in tempi brevissimi, alcune modifiche importanti al regolamento di gestione della zona artigianale, ad emanare il bando per l'assegnazione dei lotti attualmente liberi, a far approvare dal Consiglio Comunale una variante al piano regolatore generale per ampliare l'attuale zona artigianale, considerando che circa 60 imprese hanno presentato richiesta per nuovi lotti, a tenere infine in considerazione la richiesta della CNA di non calcolare l'aliquota IMO sui capannoni, considerandoli come le seconde case o case di villeggiatura. Dopo due mesi ancora nulla è stato fatto di quanto promesso e adesso la CNA è sempre più intenzionata di sotterrare l'ascia da guerra, puntandola proprio contro l'amministrazione di Modica. Ormai siamo al capolinea di chiare il presidente della CNA di Modica, Piero Bonomo, un vero e proprio fallimento nel rapporto tra ente pubblico e mondo produttivo. A chiacchiere si sostiene l'impresa e nei fatti si lascia morire un intero comparto. Infine le imprese, all'unanimità insieme con la CNA, hanno chiesto inoltre che entro il prossimo 10 di dicembre si arrivi all'approvazione delle modifiche, al regolamento e all'emanazione del relativo bando di assegnazione dei lotti liberi. Trascorso tale termine si rivolgeranno direttamente al prefetto di Ragusa per chiedere il rispetto degli impegni e mettendo in campo forme eclatanti di protesta, sicuramente molto pesanti per l'economia di tutta la città di Modica. Ed a Scicli è approvato dal Consiglio Comunale ieri sera il bilancio di previsione non senza difficoltà per la reazione dell'opposizione che ha lasciato l'Aula sia per le casse e all'arrosso dell'ente. Ridotti i servizi essenziali e nessun aumento di tasse. Sentiamo. Il bilancio di previsione a Scicli è stato approvato in estremis ieri sera con il voto a favore di 12 consiglieri. Mentre l'opposizione ha lasciato l'Aula, ecco la maggioranza rimasta compatta. Segno unico di protesta del consigliere Bartolo Ficili che ha lasciato l'Aula dopo aver contestato l'emendamento dell'amministrazione che prevede tagli netti al sociale e in particolar modo al centro di urno del Rosario. E' stato bocciato anche l'emendamento di Bartolo 25 che prevedeva la somma di 20.000 euro per le società sportive. Ieri sera il termine ultimo imposto dalla Corte dei Conti per approvare il bilancio appena il commissariamento con la dichiarazione del dissesto. Il primo cittadino, Franco Zutino, aveva anche inviato una lettera ai capi settore con la quale è stata chiesta la puntuale e aggiornata ricognizione della situazione di Vittoria e delle procedure esecutive attualmente pendenti. Dobbiamo impegnarci al massimo, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale di Scicli, Vincenzo Bramanti, perché dalla Corte dei Conti arriva l'input ad un coinvolgimento di tutti nell'adozione di misure correttive. Credo che sia importante, ha continuato Bramanti, andare a Palermo per meglio capire cosa fare nell'interesse dell'ente della città. Il Sindaco Susino, fino al suo insediamento, aveva dichiarato che le tasse non aumentano, quindi nell'Imu, nella Tarso, nell'Acquedotto e nell'Irpef, contro tutte le previsioni degli altri. In un momento di grave crisi economica, in cui il Comune non è in grado neanche di pagare gli stipendi, la scelta di operare taglia la spesa anziché aumentare le tasse. È un'opzione politica che guarda alle stanze dei ceti deboli, secondo il Sindaco Susino. Per fare questo, il Comune ha ridotto all'essenziale l'erogazione di alcuni servizi. L'amministrazione ha ridotto da oggi i settori che passano da 11 originari ai 6. Altro impegno assunto dal Sindaco, quello dello snellimento della macchina burocratica e di una nuova organizzazione meno dispendiosa per l'ente. E come ogni giovedì e martedì, torna all'interno del telegiornale di Video 1 l'appuntamento con la rubrica dei sondaggi di attualità, gente e fatti. La tematica di quest'oggi riguarda i regali di Natale. Sentite cosa è emerso dalle interviste. Signora, buongiorno. Quando si spenderà quest'anno per i regali di Natale? Ma io non penso che spenderò con la crisi che c'è. Pensa di non fare? No, 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 assolutamente. Tranne per i bambini. Solo per i bambini. Il budget all'incirca per i piccoli quanto spenderà? 20, 25. Si cercherà di accontentarli. Poco, poco. Si risparmierà? Certo. Specialmente io devo risparmiare per forza. Pochino, pochino. Si risparmierà? Ma sicuramente sì. Vedremo. Ancora c'è tempo. E guardi, proprio quest'anno ho sempre speso tanto, però quest'anno non lo festeggio per niente, per motivi miei personali. Ma generalmente ho fatto sempre dei regali. Preferisco farli che riceverli. Può sembrare una cosa, però è il mio modo di fare. Poco. Si risparmia. E tanto sì. All'incirca che cifra destina? Ma un pensierino ciascuno, così. E fare contento a tutti. E poi si festeggia il Natale in famiglia e così. Sì, vediamo un pochino su quello che possiamo scegliere, in base ai tempi che sono, alla crisi che c'è. Ma no, io non ne faccio regali di Natale, no. Non ne fa per risparmiare? Non si usa da noia, non si usa. Per il regalo di Natale? Ancora veramente non ci ho pensato. Non ha destinato una cifra? Se lo farò, lo farò nel regale utile per i miei figli e per i miei nipotini. All'incirca la cifra? Cerchiamo di risparmiare. Niente. Si risparmerà perché ci sono pochi soldi quest'anno, si lavora di meno. Quindi nessun regalo, non si spenderà nulla per i regali? Ma pochissimo, poca cosa per i ragazzi e basta. Dipende da quello che possiamo avere intanto per la sopravvivenza quotidiana. Quindi insomma quest'anno si deve risparmiare? Non si deve risparmiare. Risparmiamo fino all'osso perché sinceramente abbiamo il minimo per sopravvivere. I regali vengono dopo. Revocato dalla funzione pubblica CGL lo sciopero previsto il 3 dicembre e l'assenzione collettiva dal lavoro straordinario prevista dal 4 al 12 dicembre da parte dei lavoratori della discarica cava dei Modicani. Convincente l'esito della riunione tenutasi in prefettura con tutti i sindaci dei comuni montani, il commissario straordinario del comune di Ragusa e di vertici del lato Ragusa. La discarica di Ragusa non sarà chiusa, quindi i rifiuti non saranno trasportati a Motta Sant'Anastasia, scongiurando così il rischio di un aggravio dei costi. Inoltre è stato assicurato che i pagamenti avverranno regolarmente. Assemblea di istituto sull'antimafia stamani al liceo scientifico Galileo Galilei di Modica. Presente il coordinatore regionale di Libera, nomi e numeri contro le mafie, Umberto Di Maggio, snocciolati e discussi con gli studenti i nomi e i numeri di quanti e quanto è già stato fatto in Sicilia per la lotta contro l'organizzazione criminale. Sentiamo i dettagli nel servizio. Vincere l'omertà nella lotta alle mafie trasformando la protesta in proposta, questo è il leitmotiv dell'assemblea di istituto sull'antimafia che stamani si è tenuta al liceo scientifico Galileo Galilei di Modica, un progetto che allo scientifico di Modica, in sinergia con l'associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, si ripana ormai da diversi anni scolastici e che stamani ha visto lo svolgimento di un ulteriore step, quello dell'assemblea volta a discutere con gli studenti sul tema della legalità e a snocciolare i nomi e i numeri che in Sicilia negli anni hanno contraddistinto la lotta alla mafia. Gli studenti del liceo Galileo Galilei, i protagonisti dell'attività di stamani, già lo scorso anno hanno potuto toccare con mano quanto svolto nella lotta alla mafia, recandosi direttamente in visita nei terreni del palermitano confiscati alle mafie. Il progetto ha potuto essere diviso in due parti, la parte che era incentrata sul lavoro didattico che veniva fatto nelle ore pomeridiane qui a scuola e poi nel viaggio che è stato fatto appunto a Palermo. Ci sono stati regalati questi bellissimi momenti, dove appunto noi abbiamo conosciuto delle realtà che purtroppo sembrano molto lontane, ma sono comunque delle realtà che affliggono la nostra amata Sicilia. Siamo stati a Palermo, abbiamo visitato diverse associazioni, quella è l'associazione Ubuntu, siamo anche stati a Cinesi, abbiamo parlato col fratello di Peppino in passato, Giovanni appunto, che ci ha parlato con le lacrime agli occhi, ricordando la figura di suo fratello che comunque ha lottato contro anche i suoi parenti, contro la propria famiglia, per dare un segnale forte a questa Sicilia che alcune volte sembra essere molto silenziosa. Questa omertà deve scomparire e deve essere combattuta principalmente da dentro noi. Un'educazione alla legalità che affonda le sue radici nel rispetto delle regole sociali basilari, nella consapevolezza dell'importanza della parola e della denuncia dei supprusi che vede le scuole in prima linea, quali istituzioni preposte alla formazione di cittadini liberi. Oggi noi non siamo i protagonisti, oggi Libera è invitata a compartecipare ad un importantissimo momento di democrazia per questa città. Oggi c'è un'assemblea di istituto, oggi i ragazzi di questa scuola hanno deciso che bisogna superare la protesta con la proposta. Quindi siamo stati invitati a partecipare a questo importantissimo vento di cambiamento. Era importante esserci, era anzi doveroso esserci, perché sono loro gli autentici protagonisti di questo cambiamento. Una piccolissima parentesi mafiosa e corrotta della nostra storia millenaria non può macchiarci per sempre. E don merito, diamo merito a questi ragazzi che hanno cominciato seriamente a ragionare su come ripartire. Loro stanno provando a cambiare il paese, non a cambiare paese. Loro stanno ragionando seriamente su cosa bisogna fare, sbracciandosi nel quotidiano. E con questa notizia termina questa edizione. Il telegiornale di Video 1 torna alle 19.30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti.